un grande camion fu imbarcato in un aereo che si dirisse nella cittadina di Nairobi, Kenya un giorno ero sai su Csat che leggevo i due froci dire cose volgari si promettevano botte via sempre sul culetto sempre senza vaselina e ho detto ora tu vedrai organizzo un viaggio per sti due di sola andata hanno vinto un biglietto poi per andare in Kenya poi liberarci di loro tu ti immagini an Alessandro in Africa messo sotto dai turchi e algerini sai con i grandi zulu dell'Africa 40 centimetri di dolore in culo avrai e l'Africa terra di perdizione e passione di fascino profezie e mistero divenne la loro alcova eppure Alberto andò in Africa in una gincana singolarono i due c'era pure sosie di magnumpiai che li giudicava male come ganja gridava froci nei forni ma l'Africa era un forno in sé e morirono inculati da tribù locali An Alessandro inculato in Africa messo a 90 dalle tribù tu i zulu gli sosie di magnumpiai dell'Africa dallo Zimbabwe alla Namibia un po' più aggiù eppure eppure tu in fondo quest'Africa non è male c'hanno i quei 35 centimetri che mi piacciono tanto ahi ahi fate piano questi due eroi di Xat finirono in Africa ciao